Oggi, su GTA V, ho deciso che apriremo una Mystery Box. Ma avete visto come si chiama l'elenco partite? Nicotto. 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 Ma che è? È Nicotto. Ricotta. Nicotto. Campione. Che Mystery Box apriamo oggi? Oh, io provo la Mystery Box. Dove dentro troviamo Loco. Ma le fai sbagliare anche la mia dash magic. Dove troviamo Loco? Che sfortuna. Allora, se tu trovi me, vuol dire che sei molto fortunato nella vita. Vuol dire. Ma sono già morto. Indovina chi ti ho toccato, mico. Prova a immaginare. Buddy. Prova a fare un nome a caso della persona che ti tocca. Perché proprio Loco? Cosa cavolo c'è qua dentro? Salve. Cosa è successo? Laga un pochino. Ciao, sono morto. Aiuto. E sono morto. È spaventoso. Wow, che bella mappa fantastica. Ma penso che sia la prima volta, ragazzi, che dobbiamo buttare giù un po' tutto. E oddio, sono proprio emozionato, cavolo. Ma esplode qui, aiuto. Laci, tu hai capito qualcosa? La mia pezzi qua lo stai in secondo fare. Sono 600 gradi qua dentro, non vorrei dirlo, in questa stanza dove sto registrando in codesso esatto istante di momento. È troppo caldo dentro la stanza. Aiuto. Ti prego, Buddy, apri la finestra, io non dormirò. E spegnere la stufetta. La stufetta è esplode lo studio? E beh, vorrei vedere. Io ogni tanto la accendo, anche quando fa caldo, perché mi dà quella compagnia sonora, capito? Non so come dire. La compagnia sonora. Quella voglia di sciogliersi dal caldo. Sì, esatto. Però è che mi fa paura questa cosa che non sappiamo dove andiamo. Beh, raga, Nico mi ha buttato giù. Nico, Nico mi ha buttato giù. Non dico che mi volevi buttare. Marci, 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 Marci. Ragazzi, è iniziato. No! Ho cambiato veicolo, schifoso. Loco, sai che cos'ho adesso? Loco, sai che cos'ho? Loco! È meglio che non lo dico. Loco, sai cos'ho? È meglio che non lo dico che cos'hai te. Aia, vuole insultarti, Marci, eh. Ho i pollici opponibili. Loco, perché tu, Loco, ma non volevo beccarlo. Ma perché stia esplodendo tutto? Perché Marci è... Non so, ce l'ha con me, in qualche modo. No, Loco, stai tranquillo. Non so cosa io abbia fatto a Marci. No, Loco, devi essere ricambiabacato. No, Loco, ma io ce l'ho con tutti. Quando si gioca a GTA ce la si ha con tutti, solo che tu sei sempre l'ultimo e quindi ce la si prende con tutti. Ma se ero primo! Ma io adesso me la vado a prendere col vicino di casa sopra, che se che me la posso prendere con tutti. È un gioco, è un gioco, e quindi devi buttare giù le persone. Ma butti giù solo, Loco! Peccatemi per favore. È morto? No. Mi prego muori. È terrato, guardalo. Che dica morto? Stavo citando tutto, stavo andando sopra. No, si citta. Mi hai fatto a citare, spiegamelo. Grazie, Loco. Mi fa assa che... 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 Come sono messa dai vestiti, Nico? Eh sì, perché non so dove metterli, quindi li appoggio lì, però c'era la piastra. Nico è proprio disordinato comunque. Ma è che in un angolo. Si disordinato, Nico, che c'ha moltissimi più ordinato del mondo. Eh, ma è disordinato nella vita. No, no, non è vero. Esatto, esatto. Mi ha disordinato preso gioco, dobbiamo tenere la piastra in camera, prendere uno spazio, quindi la metto. Come ho fatto marcia passare? Mamma mia, sei imbarazzante. C'hai provato, eh? Va bene, sono esploso, ok. Facciamo una petizione per comprare una villa a Nico, perché così almeno ha spazio e non si lamenta. Mi piace, mi piace. Ogni like è un euro messo da parte per Nico. Mi piace. Ogni like è una rampa contro loco. Tu non è persona brava. Tu sei bravo. E con una certa morale. Ah, questa è mia nuova. GTA rubi le macchine, ma lui ha morale. Ok, va bene, mi piace, mi piace come idea. Potete buttare loco, per favore? Buttare loco? Non ce la faccio, ce l'ho. Mi buttate. Tutto proprio da buttare. Scusa, Marcin, sai che sto cosa non gira. Potete eliminare loco, per favore? Se voi ci penso io. No. Eh, però, mi stai prendendo in giro? Eh, vabbè, mi fa ritornare. Eh, vabbè, ti giuro non potevo muovere, non so cosa fare. Adesso chiamo i vicini. No. Adesso chiamo i vicini? No, era un anziano da vicino. Ma perché parte da su? Hai detto bene, Nico, era. No. Dai, via da... Ah, scusami. Ma è vero, vabbè. Sì che è vero, purtroppo. No. Se questo video raggiunge i 10 10.000 dislike. No, ti prego, loco. No, loco, anche te no. Ragazzi, 10.000 dislike, ho detto, ho chiesto. Loco si fa una parte di testa pelata. Una parte. Una mezza parte pelata. Così, cioè, ci stanno. Tu i truzzi. Eh, no. Se mi becchi, non devi fare per forza. No, io i miei capelli non li tocco. Vabbè, sono a metà. C'è impiegato, Anne, a farli crescere, nessuno mi li tocca. Penso io sto diventando pelato. Facciamo che ti fai i capelli di un colore. Se arriviamo a 10.000 di dislike. Ma lui ne fa ogni giorno. Ce li ho già di un colore. Eh, no, ma lo decidiamo io e Buddy il colore. Eh, va bene. Questo è tipo bruttissimo. Tipo marrone, come l'ho. No, tipo rosa. Ma il cielo adesso rosa. È vero, che schifo. Rosa, rosa mi fa pensare a una cosa, Marcin. Blu elettrico. No, vi prego. No, vi prego, aiutatemi, vi prego, per favore. Che sai che è successo? Sono bloccato qui, non so perché, non riesco a... Ti rompe, batti. Ti ho sblocato. Loco, non dovevi farlo. Ti ho sbloccato. Loco, non dovevi, io te lo dico, tu non dovevi farlo. Dabbi, è che se sei sbloccato, l'ho sbloccato. Beh, a sinistra, adesso, 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 adesso. Ah, tranquillo, ce l'ho qua io. Addì. Ma chi è ultimo? Sì, sì, sì. Mico, vai addosso, uccidili tutti. Vai, cattivo. Adesso appaiono. Ok, a posto. Grazie. Non è stato carino, Buddy, da partito. Io prima ti ho fatto passare a destra. Senti, non lo vuoi, io sono uno. No, Buddy. Ho due minuti da Nico, dimmi. Buddy, guarda che decimina di slack te li rifai tu i capelli. No, che poi mia mamma mi caccia di casa. Vabbè, stai... No, devo andare, effettivamente, potenzialmente potrebbe essere una cosa buona. No, Nico si colora i capelli. No, Marge si colora. Nico ce li ha già colorati. Perché noi dobbiamo colorarci i capelli? Come Nico ce li ha già colorati? Da quando? Ma te li fai ancora tipo amaranto? No, in realtà, dal primo maggio che non li faccio rossi. Amarena, falli e amarena, falli. Ragazzi, comunque, vi voglio dire una cosa che Nico l'ho visto dal video. Blu di Persia. Era bello. Non dirlo. È più alto di quello che sembra. Non è vero. Blu di Persia. Raga, gli arrivava alla spalla. Ma non è vero. Ecco, così Nico non potrà mai venire a una fiera, perché adesso sanno che tutti che è alto. Ecco, ecco, povero Nico. Ci sono tante persone alte. E ma, loco, cioè, insomma, di fianco a noi 3 è uno, alto 2 metri. Sì, potrebbe essere un fan, tipo. Marci, ti spingo io. Marci, resisti. È una vita difficile. Io mi piace il fermo qua perché voglio godermi il Phantom e mi leggo un messaggio su WhatsApp. Voglio godermi il Phantom, mi mancava. Sto arrivando, raga. Marci's back. Ne siete? Loco, tutto bene? No. Allora, il reto a Marcia. E non sono capace di guidare. Chi è il Phantom? Sto arrivando il camioncione. È loco, quello dietro. È loco! No, no, è loco, era quasi passato. Il loco era quasi passato. È non presente? Vai, loco, coniugaci il trapassato di un verbo. Vai. E quale? Trapassato prossimo. Ok, io fammo. Che noi fammo. Ma qual è il verbo? L'indicativo. È quello che vuoi? No, no. Che noi fammo. Il verbo fammo? Fammare. Oh, una volta, raga, io comunque una volta, un giorno... Una volta che mi stava interrogando, io ho detto, no, noi fammo. Mi fa, buona, ti va al posto. Ok. Ti sto vivendo perché loco continua a cadere. È divertente? Ti piace? Ma, buggy? Che te li hai? È colpa di Marci. Ti rietro. Attenzione, signori. Ma perché hanno messo degli alberi? Attenzione, è incredibile. È solo a fascia destra. E Marci, va. E Marci va. Però, cioè, nel senso, stai mancando di un argomento oggi, eh? Stai proprio mancando di un argomento. Ci manca qualcosa. C'è qualcosa che manca. Eh, si sente una mancanza di cacca, in primis. No, ma la cacca basta, perché non è che possiamo far diventare il canale di cacca. Eh, la chiamiamo Marci Cacca. Ma chiamalo Buddy Cacca. Recensioni. Sei morto? Sei? Sì. Morto? Ma che peccato, quanto mi dispiace. Aia. Loco, stai marcando ma. Loco, Marchimale. Cosa che Marco, eh? Dimmi cosa Marco. Ma però, Nico, nel senso, io sono stato fermo. Eh, ma Marci doveva recuperarti. Scusate, quando uno si chiama Marco, gli dicono Marco Marchimale. Ma ragazzi, ma... Badi! Badi! I need you! No all'ultimo checkpoint sarebbe veramente terribile come cosa Allora uno l'ho preso Mi stai spingendo in avanti Marci destra o sinistra No quanto è veloce quello No dai Marci Sì 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 Buddy sei un pirla E ora voglio vedere come vi buttate giù Dico la rampa Marci posso farcela Sì puoi farcela io credo in te Buddy non mi stai facendo letteralmente niente Vado pure insultare Ragazzi non è l'ultima questa Ragazzi non è l'ultima questa Eh mi dispiace Buddy è già passato però eh Devo passare in più Marci stai dritto fermo dritto fermo dritto fermo Ok Ma dove è? Fermatevi per Nico Ma che vuoi? Ma dove è Nico? Ma che sono primo? Hai già alleato tutti contro di me Ti prego Marci posso dire Io non ho fatto niente Ho rotto una ruota Non riesco ad andare C'è una ruota in meno Provami a passarti sopra se vuoi Eh tu me l'hai rotta La barca? Ah Una rampa? No ancora qua sei? Dai ma sei invisibile Ma io non ci credo Ragazzi Ragazzi Come back Ragazzi come back Ma a parte che ho fatto la gara tutta la prima sarebbe stato brutto Come back is real Come back is real Nico ci ha provato Ma non ce l'ha fatta Perché ti sei lato combatti Perché i deboli non possono fare Ma dove dobbiamo andare? I deboli intanto Nico Nico Scusa Nico Nico Ragazzi un po' è strano il check point Non dovete buttarvi giù Tornando a destra Ah Dio mio Dov'è? Papere Come? Rush Non ho avuto il check point Andate raga C'è tempo ancora Rush E questi sono i partiti E fai te Alcuno ci ha buttato giù Ragazzi Ragazzi Ce la potete fare Ma cosa possono fare? Devi fare in fretta Buddy Se tutti i giri C'è il carro armato L'ammazzi Buddy devi fare in fretta Buddy sei tutti noi Buddy Buddy sei tutti noi Mi piace a tutti voi È stato un piacere Va Buddy Arrivederci No l'ho preso di nuovo Ah no Meno male Mercoledì Domani ho il dentista